Si raccusa a guato in centro a sicario che ambizza trentotenne a colpi d'arma da fuoco. Si raccusa come il far west e si ritorna ad assistere a tragiche vicende e metodi criminosi che sembravano essere ormai soppiti con il trascorrere del tempo. Evidentemente non è così, a farne le spese nella nottata scorsa è stato un trentotenne che durante un'aguato avvenuto in corso Timoleonte intorno alla mezzanotte ha ricevuto alcuni colpi d'arma da fuoco alle gambe rendendo necessario il ricorso immediato alle cure mediche del personale sanitario afferente al nosocomio siracusano. Secondo una prima informativa proveniente dal pronto soccorso il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri con l'intento di risalire celermente all'autore del gesto criminoso.